Adorabili amici, a grandissima richiesta oggi vi porto il mazzo Santuari per rivivere un po' i feelings di Kamigawa. Premetto subito che non è un mazzo competitive, è sicuramente un mazzo spicy, molto divertente da giocare, molto difficile riuscire a vincerci, però dà soddisfazioni, dà un sacco di soddisfazioni. Ringrazio Wizards che mi ha dato la possibilità di provare in anteprima le carte di M21 durante lo streamer event. Mi hanno donato questo account che vedrete in azione oggi, temporaneo, purtroppo, che ha un numero infinito di gemme e di wildcards così da poter sperimentare. E abbiamo sperimentato con i santuari. Partiamo dal santuario del tutto, l'emblema dei santuari. In realtà no, facciamo un po' di ordine. Facciamo un po' di ordine dei nostri amici santuari. Ecco qua, guardate che bello ordinato. Dicevamo, santuario del tutto, 5 mana, 5 colori. All'inizio del mantenimento puoi passare in rassegna il tuo grimorio e o cimitero per una carta santuario e metterla sul campo di battaglia. Se passi in rassegna il tuo grimorio devi rimescolarlo. Se un'abilità di un altro santuario che controlli si innesca mentre controlli 6 o più santuari, questa abilità si innesca una volta in più. Quindi raddoppia le abilità dei santuari. Come funzionano i santuari? Parterei dal più forte, perché è anche la nostra Winkon. Santuario delle zanne rocciose. Costa 2, di cui 1 nero. All'inizio della tua fase principale pre-combat, ogni avversario perde x punti vita e tu guadagni x punti vita, dove x è il numero di santuari che controlli. Ed è un incantesimo leggendario. Quindi dobbiamo assemblare una sorta di exodia con questo mazzo e dobbiamo avere i 6 santuari in gioco. Con i 6 santuari in gioco il santuario del tutto ce li fa attivare due volte. Quindi il santuario delle zanne rocciose fa 6 danni e poi si riattiva per effetto del santuario del tutto e fa altri 6 danni. Questa è la nostra Winkon. Abbiamo poi un po' di modi per... Grazie al santuario rosso e quello bianco, che vi ho detto in ordine diverso, così per confondervi, abbiamo un po' di modi per tenere a bada l'avversario. Il santuario bianco costa un solo mana bianco, ma ha un'abilità attivata che ne richiede 6. Costa uno in meno per essere attivata per ogni santuario che controlliamo. La attiviamo e tappiamo una creatura bersaglio. Santuario delle vette spezzate è forse uno dei migliori tool che abbiamo nel deck, perché funziona da removal. Pagando un mana in colore, scartando una terra o una carta santuario, il santuario delle vette spezzate infligge X danni a una creatura o a un planeswalker, dove X è il numero di santuari che controlli. È un deck che a un certo punto inizierà a pescare un sacco e abbiamo modo di utilizzare i santuari in più, perché le copie in più del santuario rosso, per dire non possiamo giocarle essendo leggendario, e in questo modo abbiamo un modo di utilizzarle per fare rimozione. Santuario del raccolto fruttuoso all'inizio della tua fase principale pre-combattimento aggiunge X mana di un qualsiasi colore, dove X è il numero di santuari che controlli. Ci aiuta a rampare, ci aiuta a fixare per fare il santuario del tutto, santuario molto importante. Il santuario delle acque calme costa 4, è il santuario quindi più costoso, vedete che seguono una curva, e dice all'inizio della tua fase principale pre-combattimento puoi pescare X carte, dove X è il numero di santuari che controlli. Se lo fai, scarta una carta. Vi dicevo, col santuario iniziamo a pescare un quantitativo di carte pazzesco e ci serve appunto per far girare il deck. Comunque, l'idea è fare il prima possibile il santuario del tutto, così da tutorarci i vari santuari, averceli in campo tutti e vincere di santuario delle zanne rocciose. Abbiamo un po' di modi per rampare, abbiamo la spirale di crescita, vedete che la mana base è incentrata principalmente sul verde, così da poter fare spirale di crescita agilmente. Abbiamo la lanterna cromatica che ci aiuta in un pentacolor a fixare il nostro mana e in più rampa. Abbiamo poi Shutter the Sky come unica interazione insieme a Kalix. Kalix, carta importantissima nel deck, ci aiuta a trovare i santuari che ci mancano. La meno 3 funziona da rimozione per creatura e incantesimi. La meno 7 in realtà... non ho testato tantissimo il deck avendolo giocato solo nello streamer event, ma non mi è mai servita. Piuttosto è meglio sempre fare la più 1 e trovare i santuari che ci mancano. Come riusciamo a trovare i santuari che ci mancano oltre al santuario del tutto? Abbiamo 7 di significato, molto forte in questo deck, costa 3 istantaneo, pesca 3, scarta 2 carte, a meno che non scarti una carta incantesimo. Scartiamo quindi i santuari in più che abbiamo in mano per pescare 3 a costo 3. Abbiamo poi il tutore che invece ci aiuta a tutorare gli specifici santuari che ci servono, in particolare il santuario del tutto, di cui giochiamo solo due copie perché in realtà il deck alla fine riesce a stabilizzare molto bene nel momento in cui abbiamo questi due ragazzoni in campo. Appunto il tutore idilliaco ci serve soprattutto per tutorare il santuario del tutto. Un bel mazzo, mana base complicatissima, però quando gira è super divertente. Comunque, per i coraggiosi che vogliono provarlo, in descrizione trovate il link per esportare agilmente questa lista su Magic Arena, trovate anche il link per il sito del mio sponsor Oblivion, il mio negozio di fiducia che ha aperto un e-commerce. Non trattano solo Magic e avete uno sconto del 5% su tutti i prodotti utilizzando il codice ZIOGARBE al momento dell'acquisto. Sempre in descrizione trovate i link per i miei canali social e trovate anche il link per il mio canale Twitch. Mi raccomando, seguitemi su Twitch, questo è importantissimo. non possiamo fare santuario di secondo, il canale è un po' un peccato, ma possiamo fare Calix di quarto. Non facciamo niente fino a turno 20 milioni. Ok, questa la teniamo. Tengo. E iniziamo col Trioma. Prego. Riusciamo a fare il santuario delle vette spezzate di terzo, non che sia una grande gioia, ma almeno qualcosa facciamo. Spirale della crescita in tu Trioma. E a questo punto è meglio fare il santuario. Ok, sei Golgari, Life Gain, Vito, Facose, sì. Maledetto. Vediamo se riusciamo a reggere l'urto. Trioma in the sky, in realtà voglio il nero. Rampiamo. Ok. Così abbiamo un po' di opzioni. Fa Vito. Vito è un incubo. Vito è un incubo. Tutore. Allora, io ho sei mana. Il problema è che non ho cinque in campo e ho bisogno di utilizzare lui per scartarla e fare danni. proviamo a subirla, in realtà. Sette mana. Non riesco a fare il santuario a cinque. bianco. Rosso. Nero. Blu. Verde. Dobbiamo togliergli il Vito prima che succeda il delirio. Cosa che sta effettivamente per succedere. Aggiungiamo il Blanche. Tutto ora idilliaco with diamonds. mi spiace un sacco. Ma credo farò il santuario delle acque calme. perché devo togliere Vito? Togliamo Vito. Scarta la terra. Sacca pura. Golgari Sacrifice. È un deck. Noi abbiamo quattro dei sei santuari in gioco. E abbiamo già usato un tutore. Ma pescheremo un sacco. Un sacco. Pescheremo cinque carte. Avremo un sacco di mana. Iniziamo a togliergli tutto col nostro amico santuario delle vette spezzate. ed è tornato mannaggia Vito. Vai. Esegui assolutamente quest'azione magica. Sì, Shatter di Sky ci piace. Ci piace anche parecchio. Partiamo con Shatter the Sky. Shatter in the sky with diamond. Poi facciamo Calyx più uno. Bene. Bene. Via tutto. Fammi tutti i danni che vuoi, zi. che sei al top deck. Givelo giudice. Grazie mille per il follow. Benvenuto nell'adorabile famiglia. Anche se non siamo live su Twitch. Siamo indifferita. Facciamo a biantetto. Potrei fare terra tappata. Calyx. E abbiamo un'attivazione del nostro amico santuario rosso. Un altro forno. Un baluardo. Intanto questo mi fa danni, eh. C'è da dire che noi adesso guadagniamo. Siamo riusciti abbastanza a stallare. Io l'1-1 io lo tolgo. Sì. No. No. Vai. Esegui l'azione. Ok. Sì. Tutto bene. Togliamo Breeding Pool. Raggiungiamo tre bianchi. Quattro bianchi. Facciamo prima Calyx. Abbiamo bisogno del santuario bianco. Del santuario cinque colori. Eccolo. Ok. Giochiamo. Ci manca un amico santuario. Vediamo se lo peschiamo. Cicchiamo. Adesso abbiamo due attivazioni del rosso. Facciamo la fetch. E direi prego. cinque danni che possiamo sparare. Cinque che ne guadagniamo. Un danno me lo prendo? No, non mi interessa più. Tocca a me. Va bene. Ok. Lì tra l'altro ha quattro mana. Scorpione dentellato. Gli sparo come un bastard. Non si dice. tolgo tutto. Voglio fare pulizia di cose brutte che possono succedere. Prendiamo quattro. Lui guadagna dieci milioni. Madonna che partite. Maronna. Bianco. Passa in rassegno il tuo crimorio. Metti santuario bianco. Lanterna cromatica. Vai. Vai, vai, vai. Eseguizione. Prima volta la facciamo. Scarta una carta. rifiuta. Aggiungiamo mana bianco. Aggiungiamo mana rossa. Allora voglio fare chromatic lantern. Chromatic lantern. tu cos'è che fai? Poi. Ma in realtà no, non voglio fare nulla. sì, dai, utilizziamo setta di significato. Sì. Noi abbiamo fatto tutto, ma adesso dobbiamo stallare con calma e chiudere di santuario. Speriamo abbia pescato terra. Lui può guadagnare sei. Pesca terra. Che potenza di percorsa. Santuario. abbiamo tutto, santuario del tutto. Non ci serve più nulla. Che agile partita. No, dai, mi stai taimutando. Davvero. Eh, fa male perdere contro un mazzo meme. Elevation of. Dai, ma mi sta taimutando davvero allo streamer event. Eh, ok. Rifiuta. Vai. non attiva neanche il food GG. Lunga partita. Siamo contro Mangucci. La teniamo. Prendiamo il blu. Cacchio, contro Mangucci giochiamo il santuario. Ok. Attiviamo Fabled Passage. Prendiamo il blu. Abbiamo la foresta e passiamo. Abbiamo quasi tutto. Ok. Quasi. Ok. Marinite. Cosa starà giocando? due terre. Spirale. Giochiamo il giardino. Abbiamo tutti i colori, eh. Abbiamo tutti i colori. Tutti. Però non riusciamo a fare tutori di liaco più santuario. E voglio fare poi uno Shutter in the sky brutal. Brudalissimo. Quindi facciamo tutori di liaco. Abbiamo il bianco, il blu, il rosso, il nero, tutto. Prendiamo santuario del tutto. Giochiamo la montagna e passiamo. Andiamo con calma. Facciamo il santuario. Prenderemo quello verde, credo. No, non lo so. Oddio. Qual non avere il doppio bianco è un problema. ok, non attiva il cavaliere. Non siamo morti. Tu cos'hai? Lurrus e scorpione dentellato. Andiamo, santuario. bisogno però del mano bianco, assolutamente. Ok, riempi la tua board. Riti. Questa è una carta di magic, eh? Scheletro. E lui. Allora, passiamo in rassegna il grimorio. Proviamo a sopravvivere. Ok. Se io faccio a tre questo, proviamo a vedere se becchiamo il bianco. questo può essere tutto un problema. È tutto un problema. Due, quattro, sei, otto, nove, dieci, dodici. Bella partite. Ah! E GG, il vezzo santuari è andato benissimo contro bengu. Giochiamo per primi. La teniamo. La teniamo, abbiamo la lanterna che ci aiuta a fare il santuario subito, subito, se peschiamo terra. E poi andiamo. Ok, Fabled Passage. Stiamo fermi, non facciamo nulla. Però riusciamo a prendere il santuario verde, col santuario del tutto, riusciamo a fare un sacco di santuari, tutti allegri, tutti felici. Tutti allegri, tutti felici. Mazzo meme, mazzo, no, 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 no. Toglimi quello rosso. Toglimi lanterna, non togliermi il santuario del tutto. Toglimi lanterna, vai, vai, lanterna, 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 vai, vai. Ok. lanterna, vediamo prossimo turno se riusciamo magicamente a pescar terra e fare santuario del tutto. Dammi sta gioia deck. Ok. Vediamo. va bene. Va bene comunque terra. Accetto terra. Non ha paura del santuario del tutto evidentemente. Uff. Yes. Yes. A questo punto prendiamo il santuario nero. No, non è vero. Prendiamo quello blu. Ok, sei mono nero disc... Rakdos discard. Mila. Cose strane. passa in rassegna il tuo grimorio lancia il tuo santuario arriva shutter e pesco sì scartero una terra e farò il santuario e passo faccio shutter Meglio se faccio shutter forse shutter in the sky with diamond riprendiamoci il santuario nero paga vai attenzione santuario ha una chance adesso prendiamo il verde o il sì il verde croxa passa in rassegna il verde calyx va benissimo esegui l'azione scartiamo il santuario aggiungiamo mana bianco facciamo calyx vediamo se becchiamo il santuario nope bene becchiamo un cacchio facciamo il santuario qua e credo faremo comunque lanterna cromatica così abbiamo un'attivazione del santuario rosso e siamo riusciti forse forse a stallarlo mamma mia santuari sarebbe la seconda vittoria non voglio esultare troppo presto è una fatica arriva ok e santo io mi pesco tutto il deck a un certo punto dovrei mettere jace dovrei mettere jace o l'oracolo qualcosa vado al danno non voglio scartare nulla prendiamo il bianco vai che partono dieci milioni di danni pam pam ma esegui tutto scartiamo santuario rifiuta arriva il bella partita aggiungiamo il mana bianco che non me ne faccio niente aggiungiamo il mana blu e qua cosa vogliamo calyx rifiuta scartiamo un po' di pozze prolifiche posso fare niente mettiamo il trioma peschiamo col trioma peschiamo con l'altro trioma giusto per usare il nostro mana devo assolutamente assolutamente mettere qualcosa che mi faccia chiudere la partita così perché se qua questo mi fa cleansing nova vince pure liliana risvegliatrice dei morti che andiamo subito a uccidere guarda non ho problemi a scartare e vabbè dichiarazione degli attaccanti sai che c'è io ti tappo lui ok mio turno io ti sparo a lei proprio così a cattiveria e arriva il good game da parte di zio garbe rifiuta finito gg mazzo santuari non perdona meme totale a Grazie a tutti.